L'area è transennata, ma di fatto le famiglie che abitano in questo quartiere continueranno a viverci. Come procedere alla bonifica di 6 km di terreno dal momento in cui su questa ex discarica comunale mai bonificata sono state costruite delle abitazioni? È una domanda che in queste ore si sta ponendo il primo cittadino di Ionà, di Nazareno Fialà, nominato custode giudiziario. È lui che dovrà procedere alla bonifica del sito, come ribadito dal procuratore capo Mario Spagnuolo. La bonifica non è un problema che riguarda la magistratura, è un problema che riguarda l'amministrazione e che penso sia una cosa a questo punto molto complicata, visto che vi sono delle opere realizzate sul sito che è oggetto della bonifica stessa. Fino agli anni 80 in questa distesa di terreno c'era la discarica di Ionadi, poi la legge Merli ha portato alla chiusura degli immondezzaio ordinandone la bonifica. Non a Ionadi, dove il terreno da agricolo è stato trasformato in edificabile e quindi lottizzato. Della vecchia discarica non è rimasta traccia, tant'è che nel 2004 in località Capramorta sono state costruite delle abitazioni che poggiano su un letto di rifiuti. La scoperta della discarica è avvenuta in modo del tutto casuale. A marzo scorso alcuni tecnici dell'Enel durante gli scavi hanno dissotterrato i rifiuti. E poi le indagini condotte dai carabinieri su disposizione della magistratura che hanno portato alla scoperta e al sequestro dell'area. Il sequestro non è traumatico a tal punto da imporre l'abbandono delle abitazioni già completate. Il sequestro impedisce la realizzazione di ulteriori opere, sequestra le opere e quindi sono indisponibili le opere in corso di realizzazione. Dopodiché abbiamo disposto la nomina del sindaco come custode ed è evidente che poi su di lui incombono una serie di obblighi che sono tutti quanti sanzionati dalla legge.